terza guerra mondiale è possibile che l'essere umano non riesca a comprendere a capire come funziona possibile possibile che questa pandemia non vi ha insegnato nulla tutto iniziato in italia tutto si è bloccato si è fermato dall'italia perché si è messa in circolo nell'etere la massa critica vedete noi funzioniamo in questo modo la mente è la mente che crea tutto è la mente che plasma la materia soprattutto quando entrisa di spirito santo può avere la possibilità di restaurare qui sulla terra un paradiso terrestre ma perché non accade perché le menti lineari sono labili per non dire psicolabili dipendono da che cosa dall'informazione di regime dai notiziari dai tg la guerra la guerra la guerra allora la mente si va a focalizzare su quella informazione e la va a creare per fortuna si sta sempre espandendo di più la mente olistica vedete inconsapevolmente anche se indirettamente siete voi i responsabili e corresponsabili di tutto quello che accade perché il sistema per avere il controllo dell'essere umano ma soprattutto di anima deve far viaggiare i vostri pensieri le vostre menti su vibrazioni basse sulla paura sul terrore sulla finanza e poi per non parlare dei degli influencer che ci sono sui social dei guru i paladini della libertà sapete perché perché tutti voi tutti compreso me siamo sui social e sui social si può pescare si può fare una una pesca abbondante di menti labili psicolabili per farli collegare su quella informazione e farli creare quella realtà ancora non avete compreso che il pensiero la mente crea e tu cosa vuoi dalla vita poi un'altra cosa in geremia 17 c'è scritto chiaramente maledetto maledetto è l'uomo che confida nell'altro uomo quando vuole porre sostegno nella carne qui di spiritualità non c'è niente perché si pensa e ci si occupa e ci si preoccupa della carne del corpo del fisico qui siamo di passaggio quindi quando sentite queste cose è vero la terza guerra mondiale è già cominciata da anni ma è qui e nelle vostre menti non accadrà mai una terza guerra mondiale per quanto possono essere viscidi infimi non non possono mai attuare una terza guerra mondiale ma la stanno già attuando perché sono tra di loro sempre e dico sempre uniti il teatrino ma dietro le quinte vanno abbraccendo perché il loro interesse è avere in pugno umanità e ci stanno riuscendo da secoli da secoli tutto questo può terminare nel momento in cui l'essere umano si sveglia dal suo obbligo e quindi cerca di vedere di aprire gli occhi perché tutto quello che si sta effettuando sono su menti lineari su menti lineari non su menti olistiche o menti aperte detto questo non preoccupatevi della terza guerra mondiale ma occupatevi di elargire attraverso la vostra parola attraverso i vostri pensieri cose positive e rivolgetevi a dio rivolgetevi a yeshua e leggete un po il vangelo invece di stare qui dalla mattina alla sera a scrollare video